Il tetapaudi si fai! Il tetapaudi si fai! Ok, kita sekarang ni berada di track Sepang. Kita tengok tim R3, mereka nak bagi media session hari ni. Dia bagi kita taxi ride dalam kereta. Hari ni saya akan naik Saga. Ini Lyris. Ini ada sebuah masjid. Kita tengah tunggu Saga ni sampai. Dah sampai, dah sampai! Kita nak naik. Ini lah kereta dia. Kita bersama Ortai ni, Abang Adi Sarut. Dia tak tahu saya kawan Facebook dia. Dia tak tahu. Ortai Porsche ni lah bawa Saga ni. Ni tengok kru-kru dia tengah menyiapkan. Ok, terima kasih. Ok, terima kasih. Ini tetapaudi si fai! Kita tak tahu ada si fai! So, timing dia berapa pulang? Tak dapat check lagi? Ok, terima kasih, Abang. Ok, terima kasih, Abang. So, ayah, tunggu dia! Okay, saya akan pergi. Terima kasih. Eh, makan, apa. Apa kabar? Ya. Ya! Ya! Ah, saya Admi, Faisal. Mereka kata saya Faisal Alam. Jadi, saya akan buang keantin pada Proton R3. per caratteristico qui è Armin Armin io sono il team di Pazil per questo weekend Trending Camrys noi stiamo guidando Saga, Proton Saga Adri per l'interno io sono Osman Jalani io sono di R3 e Adri sono le tecniche di Pazil come l'interno come l'interno come l'interno dopo 7 anni io sono tornare per l'interno io sono molto felice per l'interno per l'interno per l'interno per l'interno No.1, No.2, No.3 non.2 non.2 ma mapposte hanno mapposte per l'interno per l'interno mapposte 全 mapposte ma siamo più altissime ma quando ci sono stati che non si non si più è così ci sono elementi che si dovete vedere ma che abbiamo detto che Fazi ha detto che noi stiamo molto compagni e il campo di luarietà è molto compagni ma che abbiamo detto che abbiamo sempre 100% e 150 è stato molto benissimo per ieri 20 metri per ieri non si c'è come come? sì, abbiamo preparato che il Tionicolio è un'assimilazione di S1K non solo il caro, il pilota, il team, ma tutto spero che ciò che abbiamo di Tionicolio, ciò che si può migliorare su S1K ma il targeto di Tionicolio è iris è molto importante per tutti gli altri per capire il risultato come se il sistema è diverso dal rinforo di 300 km e 1000 km? non è molto importante perché invece il rinforo di rinforo ora il rinforo è il rinforo in questo caso, molte delle squadre sono rinforo di rinforo di rinforo perché se guarda la partita non è molto diverso da qualificazione in quanto riguarda la scuola. Allora, per quanto riguarda la seconda, circa 2 seconda, perchè si stanno lavorando la scuola. So, durabilità, non c'è problema. Especialmente con Proton. Insha'Allah. Alhamdulillah, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Però, per la precedenza, Faisal, si può prendere l'applicazione perché si è stato guidato con il team in quanto riguarda la scuola la scuola è sempre molto riguarda. Dalam banyak-banyak pasukan siapa ini biasanya yang akan jadi pencabar yang paling-paling rasanya mengugat rasanya. Tengah cakap, non c'è nessun problema. Ada dengar, ada dengar gossip, HMRC, Honda Malaysia Racing Team, siapa ini urlano? Siapa ini urlano? Si, urlano. Ma'amn, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I hope you guys enjoyed this note. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.